Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale! Allora, Happy Meal, McDonald's, campionati del mondo di calcio femminile, l'Italia purtroppo è uscita abbastanza presto, e l'Happy Meal è dedicato a questo. All'interno dovremmo avere questa confezione con figurine, cards, non lo so perché le abbiamo, c'è la luce un po' strana, devi spostarti un po' di qua, se no andiamo a creare troppa ombra. E andiamo a vedere, vai, vediamo! Un pacchetto, aspetta! Vediamo cos'è, un pacchetto con non si sa che cosa e un tabellone. Aperlo qua davanti a noi così vediamo. Ah, un tabellone su cui mettere le figurine? Aspetta, gira! E qui un poster con delle giocatrici e la loro forza, quindi penso che sia tackle, parata, corsa e dribbling immagino. Ah, ho capito! Vediamo! Ho capito, tu trovi tipo quattro... aspetta, gira! Giriamo! Sarà regolamento da qualche parte ma noi ovviamente non ce l'abbiamo. So, ti trovi un cartellone così e dentro ci sono cinque figurine da attaccare sul poster. E basta? Sì! Scusa, vediamo! Aspetta, questa? Ma non sono le stesse che abbiamo di qua, no? Infatti, puoi decidere... Ma no, secondo me è una questione di... È un gioco, l'altro ha un'altra cosa di questo tipo. È vero che sono adesive, però si batte in base alla potenza e cose del genere. Vi dovrebbe andare sull'app a vedere, vediamo le altre figurine. Allora, qui abbiamo trovato Nikita Parris, che sembra avere una buona media. Poi abbiamo Alexandra Pop, però non ci dice la nazionalità. E questa... Germania, eccola, Germania. Questa invece era inglese. Poi? Raffaele. Raffaele del Brasile. Poi? Infatti quest'anno... Martina Rosucci. Per la prima volta farò il fantacalcio anche femminile. Sono meno squadre. Eh, questa è della nazionale italiana e Martina... Com'è che si chiama? Rosucci. E poi questa è speciale. Vediamo. Di Mary Flower. Ah, abbiamo anche la carta speciale. In effetti, che è cangiante. Cioè, secondo me... Mary Flower dell'Australia. In ogni confezione ti danno tipo il cartellone, tu le attacchi lì e non lo so... E poi c'hai tutti i poster con dietro magari altre giocatrici. Puoi farlo, ma il fatto che ci sia la potenza e la velocità e quindi una specie di gioco di ruolo si può fare anche così. Ci informeremo. E vieni i cartelloni, poi vedi quali... Vedi le potenze, le esami e vedi... Vedi come giocare, bisogna andare sull'app, scansionare il codice e iniziare a giocare i vostri bimbi. Faremo anche questo. Intanto era giusto per farvi vedere cosa c'è in questo periodo nell'Happy Meal. E quindi, molto semplicemente, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare... Ce la posso fare, non ce la posso fare... L'hai piegato al contrario. In che senso? Ah no, sì. Ok, è giusto. È giusto. Sì, ma non si chiude lo stesso. Va bene, lo chiudiamo dopo. Iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per esagerare su tutti i video. Ci vediamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!